E' uno scontro acceso quello che sta mettendo in contrapposizione a Pulsano nel Tarantino il sindaco Rupoli e i genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell'infanzia Montessori, chiusa temporaneamente per permettere lo svolgimento di alcuni lavori. Perché non farli durante le festività oppure posticiparli all'estate, si chiedono i genitori, a farsi portavoce di queste istanze il consigliere comunale di Pulsano, Bene Comune Emiliano D'Amato. Dei lavori che, diciamocelo francamente, potevano tranquillamente essere fatti in un altro momento. Il sindaco aduce al fatto che è un finanziamento e che ha dei tempi, una tempistica ben precisa. Quindi se non arrivano finanziamenti sostanzialmente i nostri piccoli possono anche stare in una struttura con tutti i rischi annessi e connessi. Nel corso di una lunga diretta Facebook, Rupoli punto per punto ha spiegato perché questo finanziamento deve essere utilizzato subito, rassicurando anche sui tempi di fine lavori. Non si può immediatamente fare una gara pubblica perché un ente pubblico non può chiamare la ditta che conosce e dire fai questo lavoro o fai quest'altro lavoro. Questo è obbligatorio che il sindaco sia Rupoli o che il sindaco sia qualsiasi altra persona. Bisogna rispettare questo codice degli appalti e dei contratti. Fatta la gara, il 29 ottobre la gara è stata aggiudicata. Per fare l'aggiudicazione definitiva bisogna fare una serie di accertamenti, antimafia, DURC, eccetera. L'aggiudicazione dei suddetti lavori è avvenuta con la determina 454 del 3 dicembre 2021. deve essere rendicontato entro metà aprile. Questo vuol dire che i lavori devono finire prima di metà aprile.